Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sono attimi di apprensione per Alberto Zaccheroni, l'allenatore di calcio, infatti, è ricoverato da ieri sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena e le sue condizioni sono gravi. Nel pomeriggio di ieri, come riporta il gazzettino.it, il 69enne di Cesenatico è caduto nella sua abitazione e ha sbattuto con violenza la testa a terra. Immediatamente è stato soccorso e poi trasportato in ospedale dal 118. Zaccheroni è stato trovato dagli infermieri steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala, a lanciare l'allarme la moglie Franca e la compagna del loro figlio Luca. La caduta, a quanto pare, è stata conseguente a un malore. La situazione è resa quindi seria da entrambe le cose. Zaccheroni resta comunque vigile seppur ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.